Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti aiuterà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Fai attenzione a non sollevare il sedere. Schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Prossimo esercizio, Spider-Man Plank. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia il piede a terra quando lo porti avanti. Fai attenzione a non flettere i piedi. I talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Non sollevare il sedere. Schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Per riuscirci, mantieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Prossimo esercizio, tocco delle spalle in plank. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non ruotare il bacino per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Prossimo esercizio, plank alta con slanci laterali. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega le braccia portando i gomiti a terra e poggia il piede dopo lo slancio. Non sollevare il sedere. Spalle, bacino e piedi sono in linea. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Prossimo esercizio, plank con scalata. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantenila parallela al pavimento. Non piegare la schiena, mantenila parallela al pavimento. Contrae l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. Prossimo esercizio, side plank. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega la gamba a 90 gradi e poggia a terra piede e ginocchio. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non abbassare o sollevare il bacino. Testa, spalle, fianchi e piedi seguono una linea immaginaria. Per riuscirci, contrai gli addominali. Prossimo esercizio, side plank alta con flessione della gamba. Pronti? Via! Se non ce la fai, mantieni la gamba interna piegata e poggia la terra nella fase di ritorno. Non abbassare o sollevare il bacino. Non abbassare o sollevare il bacino. Testa, spalle, fianchi e talloni seguono la linea immaginaria. Per riuscirci, contrai gli addominali. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non guardare il pavimento. Fissa un punto avanti a te. Prossimo esercizio, plank laterale più sollevamento a bacino. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flessi a 90 gradi. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. Non guardare il pavimento. Fissa un punto avanti a te. Prossimo esercizio, triangolo più plank alta. Pronti? Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, pissa un punto sul pavimento. Prossimo esercizio, allungamento schiena. Pronti? Via! Non guardare davanti. Rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Non piegare le braccia. Non piegare le braccia. Non piegare le braccia. Non piegare le braccia. Grazie a tutti.